Turismo e cultura, ecco una rassegna di eventi in programma a gennaio 2017 a Firenze e nell'area metropolitana fiorentina. Le segnalazioni sono tratte da firenzeturismo.it, il sito ufficiale del turismo di città metropolitana e comune di Firenze. A Palazzo Medici Riccardi, sede della città metropolitana di Firenze, continuano due grandi mostre, visibile fino al 26 marzo, la bellezza salvata sul recupero e il restauro in seguito all'esondazione dell'Arno del 66. Aperta invece fino al 26 febbraio, nella galleria tra Via Cavour e Via Ginori, l'esposizione Ebrei in Toscana XX e XXI secolo, sulla storia locale e non solo delle comunità ebraiche. Per le famiglie segnaliamo i fine settimana al Museo Galileo, con gli appuntamenti a tutta scienza. Visite interattive e laboratori coinvolgeranno grandi e piccini nel mondo della scienza attraverso l'esperienza del gioco. Per chi ama muoversi e divertirsi, sono aperti anche in gennaio i pattinaggi sul ghiaccio di Sesto Fiorentino fino al 15 e di Scandicci fino al 29. Gli appassionati di musica classica possono partecipare ai Sorsi di Musica Villa Bardini a Firenze, una rassegna di concerti aperitivo organizzati in collaborazione con il Conservatorio Cherubini tutti martedì pomeriggio. Ingresso e aperitivo a 8 euro, con possibilità di parcheggiare gratuitamente nel piazzale di Forte Belvedere.